Sì, io mi chiamo Franco Ianeselli, CGL del Trentino, mi rivolgo agli studenti richiamando questo aspetto significativo di questa giornata giunta alla tredicesima edizione. Noi accompagniamo la premiazione con un momento di riflessione su questioni che interessano congiuntamente il sindacato trentino e l'università e siamo davvero molto contenti di accompagnare appunto la cerimonia e anche però l'ascolto dei contenuti dei lavori con questo momento di approfondimento. Anche a nome dei colleghi di CIS de Will vorrei ringraziare i professori Bolego e Nogler perché noi un po' presi dalla furia degli eventi pensavamo di fare questo convegno sul Jobs Act perché adesso bisogna parlare di Jobs Act e fa parte probabilmente del nostro modo di vivere le cose anche come sindacalisti in cui sei molto costretto dall'urgenza. In maniera molto giusta e molto opportuna c'è stato suggerito, abbiamo accolto, l'invito a discutere di una questione che forse nella nostra testa di sindacalisti pare essere risolta quando in realtà è tutto ancora da digerire, da masticare, probabilmente interventi ci sono e mi sembra anche una valutazione previdente perché probabilmente quella sulla rappresentanza sindacale e sulla contrattazione sarà la riforma che verrà perché sul piano governativo mi sembra che degli interventi su questo ci saranno. Qual è l'argomento? L'argomento ha a che fare con la rappresentanza sindacale, cioè i rappresentanti sindacali sui posti di lavoro, come vengono nominati, chi li può nominare. La seconda questione è relativa ai contratti collettivi di lavoro, chi li sottoscrive, quando le organizzazioni li sottoscrivono, a chi si applicano, quindi il tema dell'efficacia generale, il tema della esigibilità, se qualcuno è contrario a questi contratti cosa può fare, quali sono le azioni di conflitto e poi il tema del rapporto tra i livelli della contrattazione. Quindi un contratto agendale o territoriale può solo migliorare oppure fino in che misura può derogare anche impeius alle previsioni della contrattazione nazionale. Immagino che uno studente possa pensare sono questioni così basiche che in 70 anni avrete pensato, raffinati giuristi e bravissimi sindacalisti a definirle, ci siamo qui, pare di no e poi sarà il relatore immagino a raccontare un po' perché, però capite che non stiamo discutendo di dettagli, stiamo discutendo se volete degli elementi costitutivi, mi verrebbe dire costituzionali dell'ordinamento sindacale. Sono avvenuti dei fatti molto importanti, uno direi è questa sentenza della Corte Costituzionale, qui davvero Focaretta ci aiuterà, che è intervenuta sulla regolamentazione, sulla disposizione delle rappresentanti sindacali aziendali e poi nel privato, lo citava prima Silvia, questo testo unico sulla rappresentanza sottoscritto da CGL, CISL e Wilcon Confindustria nel 2014, a gennaio del 2014. Qui alcune breve riflessioni è solo per titoli. È un accordo, non è una legge, quindi quanto queste questioni possano essere regolate solo da accordi e quanto sia necessario avere degli interventi di tipo legislativo, anche se questo accordo comunque è stato sottoscritto solo con Confindustria, che è una parte e non è il tutto. Un accordo del 2014 è, vedo alcuni colleghi, non semplice da attuare. L'accordo prevede, ad esempio, che per definire chi può partecipare alle trattative, chi può sottoscrivere i contratti, si ponderino i dati degli iscritti ai sindacati con i dati elettivi delle rappresentanti sindacali, costituendo un principio maggioritario, poi è deputato a firmare che è la maggioranza. L'altro giorno ci siamo trovati in Confindustria, raccogliere i dati degli iscritti, le aziende possono comunicare all'Inps, attraverso l'Uniamens, quali sono le deleghe degli iscritti. Raccogliere i dati, anche per un territorio come il Trentino, delle rappresentanti sindacali unitarie, quindi i verbali delle rappresentanti sindacali unitarie, saremo noi un po' celtroni quel che è, però insomma 100 aziende ne abbiamo, 250 ne mancano e quindi stiamo facendo un lavoro ma giusto, perché questo riguarda anche il sindacato, almeno avremo la possibilità di sapere in maniera strutturale cosa succede nelle nostre aziende. Però per dire insomma che qui si tratta di un accordo di questioni di tipo generale e di questioni anche molto legate all'operatività, l'acquettività, l'accordo del gennaio 2014, siamo a maggio del 2015 e stiamo cominciando ad attuarlo ed è un accordo che riguarda solo Confindustria. Mi permetto di, prima di dare la parola a Focaretta, di rappresentarvi una considerazione che ho trovato in un libricino che sto leggendo in questi giorni, è un libro scritto da Re Baudengo, Re Baudengo è stato a lungo il responsabile delle relazioni sindacali della Fiat e parla di quello che è avvenuto in Fiat. La prefazione è di Giuseppe Berta e dice una cosa molto interessante, Berta cita un saggio di Gino Giugni, il modello fantasma del 1987 in cui Giugni diceva la Fiat è centrale dal punto di vista produttivo, però le relazioni sindacali in Fiat non sono paradigmatiche per quello che poi avviene a livello delle relazioni sindacali generali. Berta riflette sul fatto che un po' in controtempo abbiamo avuto una Fiat che probabilmente è meno centrale sicuramente dal punto di vista produttivo, però gran parte delle cose che discuteremo questa mattina, e qui non voglio dare giudizio, dipendono però da quella grande rottura nel quadro delle relazioni sindacali che è avvenuta con i fatti che sono accaduti in Fiat e quindi non si può più parlare di modello fantasma ma di un paradosso, per cui una minore centralità economica però una centralità in questi tempi è avvenuta sulle relazioni sindacali, per cui qualcuno legge anche gli accordi che abbiamo fatto come gli tentativi di recupero da parte dell'ordinamento intersindacale di quanto è avvenuta in Fiat. Parlo di Fiat perché Pocaretta, oltre a che professore, è una persona che ha seguito queste vicende anche da un punto di vista operativo, legale, ha assistito la FIOM CGL e quindi non so se ho detto una cretinata però mi permetto di dargli la parola con questa introduzione. Davvero grazie, siamo onorati per la sua presenta. Intanto ringrazio io dell'invito e mai come in questo caso il ringraziamento non è formale. Io ho passato qui degli anni bellissimi, è un'università che rimpiango sempre perché rappresenta l'idea di università come dovrebbero essere tutte le università. Ho avuto qui il mio primo insegnamento, il mio primo corso l'ho fatto in questa facoltà. Il professor Bollego era un giovane studente, quindi anche il professor Nogler è più giovane di me, era lui al suo apprendistato da studioso, da giovane studioso. Quindi insomma vado indietro alla mia giovinezza, il che fa sempre piacere. Venendo al tema, purtroppo o per fortuna è vero che in tutte queste vicende che sono state sinteticamente evocate e di cui mi occuperò anche io nella relazione, sono stato per i casi della vita un protagonista, nel senso che sono stato al centro dell'occhio del ciclone. Non mi sono divertito molto, sia dal punto di vista dell'impegno, delle tensioni, delle scelte, delle cose, insomma perché quando si è a gestire situazioni molto delicate e importanti, se uno non è una persona diciamo avventata o superficiale, ne vive anche il peso e la tensione, ma anche perché man mano che io con altri ci addentravamo in queste problematiche dal punto di vista della loro gestione pratica, io contemporaneamente, che non ero solo un avvocato e non sono solo un avvocato, ma sono anche un giurista e uno studioso della materia del diritto del lavoro, vedevo man mano che mi incamminavo e mi addentravo in questa foresta franarmi sotto i piedi il terreno in cui io sono cresciuto e anche con problemi, come dire, esistenziali perché ogni anno che inizio, negli ultimi anni, il corso di diritto del lavoro che inizia proprio sulla parte sindacale, mi trovo nel dubbio amletico di cosa raccontare agli studenti, se il diritto sindacale per come l'ho studiato lo conoscevo io, se il diritto sindacale auspicabile che si cerca o si dovrebbe costruire o se il caos nel quale viviamo. Naturalmente viverci da professionista, viverci da studiosa è una cosa, viverci da studente quando non si è in mano neanche un manuale, ad esempio quest'anno io non sono in grado di consigliare dei manuali agli studenti per preparare l'esame che ormai devono fare fra un mese perché il diritto del lavoro dopo il diritto sindacale sta cambiando in modo radicale. Vediamo di mettere in fila un po' le questioni che sono già state evocate nell'introduzione, ma per come si sono presentate, non tutte contemporaneamente, non tutte con la stessa evidenza che però oggi abbiamo tutti davanti e tutti dobbiamo affrontare. Io non credo, sono certo, che quando a Pomigliano Landini, appena eletto segretario, quindi neanche pienamente addentro alla situazione perché l'attività negoziale era stata avviata da altri, lui interviene a negoziazione già incrinata, decide di non firmare l'accordo di Pomigliano, né lui né Marchionne erano consapevoli minimamente di che meccanismo micidiale avrebbero messo in moto. Un meccanismo che ha scosso alle basi il nostro sistema di relazioni industriali, mettendo in discussione tutti i capisaldi. Naturalmente dal terremoto che è partito in quel momento, adesso a distanza di qualche anno, si è cercato, si sta cercando di individuare delle soluzioni. Alcune sono state accennate, alcune sono state abbozzate, alcune si pensa di averle già, diciamo, confezionate per intero. Ma prima ancora della vicenda di Pomigliano, che funge da detonatore delle criticità, dell'esplosivo che stava alla base del nostro sistema, in realtà la crisi del nostro sistema sindacale, inteso come sistema sociale ma anche come sistema giuridico, si era già manifestata in tutta la sua radicalità ed ampiezza. Il momento in cui il nostro sistema entra in crisi è solo col tempo se ne comprenderà la profondità della crisi e anche la difficoltà di risolverla e quando viene meno la norma fondante del nostro sistema di relazioni industriali. Tutte le nostre ricostruzioni, le nostre, degli studiosi su cui io mi sono formato, come altri, si citava Giugno e tanti altri, sofisticati, interessanti, brillanti, intelligenti, che hanno dato un senso giuridico al nostro sistema di relazioni industriali, si basavano tutti su una norma implicita al sistema, che era l'unità d'azione delle grandi confederazioni sindacali. Era l'unità sindacale. Tutte le elaborazioni, a partire dall'ordinamento intersindacale di Giugni, arrivare alle elaborazioni di D'Antona sul contratto collettivo, perfino ad arrivare alle teorie dei filosofi del diritto come Gorla che parla del contratto collettivo come una fonte extraordine del diritto. Si basano tutte su un fatto sociale indiscusso e indiscutibile, quando si formavano queste teoriche. L'unità sindacale. Quando viene meno l'unità sindacale, il crollo del sistema, così pazientemente costruito, perché è un sistema costruito con pazienza e bricolage, giuristi, sindacalisti, con pazienza, giudici, hanno costruito un sistema nel silenzio del legislatore. Perché noi non abbiamo avuto una legge sindacale, quindi il sistema è stato costruito in modo, per così dire, extra-legislativo. Ecco, tutti questi attori che hanno costruito questo sistema con pazienza lo vedono crollare, venuta meno la norma, in modo istantaneo. Il tramonto di quelle teoriche, di quel sistema, non avviene con i langori e le lentezze di un romanzo di Thomas Mann, non sono i Budenbrock. Quello che va in scena è un film di Quentin Tarantino. Tutto crolla repentinamente e vorticosamente. Entrano in crisi tutti i pilastri del nostro sistema di relazioni sindacali. Vado ad elencarli, anche se non in modo cronologico, rispetto a loro manifestarsi. Entra in crisi l'articolo 19 dello Statuto dei Lavoratori. L'articolo 19, norma, diciamo che fonda la rappresentanza sindacale, dà l'accesso al sindacato nei luoghi di lavoro e la porta ad accesso ai diritti sindacali e all'attività sindacale nei luoghi di lavoro, soggetta a manutenzione interpretativa, soggetta a manipolazione con un referendum che ne modifica il contenuto, ma di fatto continua ad essere il portone d'accesso ai diritti sindacali e alla presenza sindacale nei luoghi di lavoro. Questa norma entra in crisi ed entra in crisi proprio con la vicenda FIAT che parte da Pomigliano. Quando si arriva allo scontro tra FIOM e FIAT, dopo varie operazioni che portano a un nuovo contratto collettivo specifico per la FIAT e per il gruppo FIAT che la FIOM non sottoscrive, vengono meno, secondo la FIAT, ma anche secondo la maggior parte degli interpreti che leggevano con serenità e tranquillità l'assetto normativo derivante dal referendum che aveva modificato l'articolo 19, dicevo, vengono meno i presupposti per la FIOM per avere una rappresentanza sindacale in azienda. Dicevo, il dato letterale dell'articolo 19 è univoco, era univoco, potevano costituire le rappresentanze sindacali e aziendali sindacati firmatari dei contratti collettivi applicati in aziende nazionali o aziendali che fossero. La FIOM non ha sottoscritto il contratto collettivo, la FIAT dice alla FIOM, prego, accomodatevi fuori. Quindi si svuotano le salette sindacali, portano fuori i quadri, i poster di Berlinguer, piuttosto che, la FIOM viene estromessa dalla FIAT. Il quadro legislativo è chiaro, ma ovviamente la FIOM non può accettare una cosa del genere. E si avvia un contenzioso che, secondo alcuni amici e colleghi, era un contenzioso folle, cioè sostenere che l'articolo 19 non poteva essere interpretato in quel modo. Partono contenzioso in tutti gli stabilimenti FIAT in Italia, quindi partono 61 cause, tutte con lo stesso contenuto, diretta a contestare questa interpretazione o applicazione dell'articolo 19 della FIAT, sostenendone l'antisindacalità. E solo in via subordinata, sollevando un'eccezione di incostituzionalità. Anzi, nei primi ricorsi, quelli che depositiamo per primo e naturalmente in base alle strategie, qui lo dico, vedo i ragazzi, gli studenti che devono capire che il diritto poi è fatto anche di accorgimenti pratici nella sua applicazione. Ovviamente i primi ricorsi li depositiamo in quei tribunali dove pensiamo di avere l'attenzione necessaria. E in quei primi ricorsi che depositiamo non solleviamo l'eccezione di incostituzionalità. perché sollevare l'eccezione di incostituzionalità avrebbe significato, laddove un giudice l'avesse ritenuta rilevante, sospendere i processi e aspettare un anno o due anni la decisione della Corte Costituzionale. Quindi si prova a fare una forzatura diversa, ottenere subito un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 19, sì da darne una lettura diversa che mette da parte il dato formale della sottoscrizione ma valorizza il dato della rappresentanza effettiva di un sindacato e quindi della sua partecipazione all'attività negoziale, al prescindere dal fatto che firmi o meno. Alcuni giudici dicono di sì, alcuni giudici dicono di no. Qualche giudice ci costringe, ci stana per così dire, ci costringe a sollevare l'eccezione di incostituzionalità. A quel punto formalizziamo negli atti di causa viene ritenuta rilevante da tre tribunali e si arriva alla sentenza della Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale, e qui arriviamo al primo step di questo tentativo di risolvergli anche i problemi oltre che di evidenziarli, si fa carico della criticità emersa nella vicenda Fiat. Se ne fa carico però, a mio avviso, con un limite che risulta evidente anche nella discussione che c'è stata alla Corte Costituzionale. Tenete conto che nella Corte Costituzionale le discussioni durano normalmente, gli avvocati possono parlare le parti cinque minuti. Quel giorno ci hanno fatto discutere per tre ore. Ma tutta l'attenzione, secondo me, della Corte Costituzionale era focalizzata nella vicenda Fiat. Il fatto che fosse focalizzata nella vicenda Fiat fa sì che anche la soluzione della Corte Costituzionale è calibrata sulla vicenda Fiat. La Corte Costituzionale non dà una soluzione generale al problema dell'inadeguatezza dell'articolo 19. Per essere chiari, i primi ricorsi ex articolo 19, quelli che porteranno poi all'eccezione in costituzionalità, ad esempio sollevata per prima dal Tribunale di Modena, hanno a che fare con situazioni di questo tipo. Aziende con 5-600 dipendenti, iscritti FIOM 400, iscritti degli altri sindacati 50, la FIOM sta fuori. Cioè casi eclatanti dal punto di vista della concretezza dell'esperienza sindacale. Mentre ci sono tanti altri stabilimenti Fiat dove la situazione è completamente diversa. La FIOM sicuramente è un sindacato non maggioritario in ambiente Fiat, né prima né oggi complessivamente. Ma nei singoli stabilimenti c'erano situazioni davvero eclatanti. Ovviamente da lì si parte per evidenziare l'incongruenza della norma. La Corte Costituzionale dà questa risposta. Non è necessaria la firma, è sufficiente la partecipazione alle trattative. Perché la partecipazione alle trattative, e questo è un dato importante, è un dato di effettività dell'azione della presenza sindacale che ne dimostra la rappresentatività di quel sindacato. Questo è l'esito della Corte Costituzionale. risolve il problema dell'articolo 19? No, lo sposta solo più avanti. Tant'è che subito dopo nasce il problema dell'accesso o dell'esclusione al tavolo negoziale. Ed è quello che sta accadendo in Fiat adesso. La FIOM viene ammessa ai tavoli negoziali solo in alcune realtà, in particolare in uno dei due gruppi. La Fiat si è divisa in due settori. CNH, dove c'è la produzione industriale, e FCA, dove c'è la produzione automobilistica. Nel settore della produzione industriale, sia perché si trovano a gestire situazioni di crisi, quindi devono fare accordi di cassa integrazione, piuttosto che di gestione delle difficoltà, e sia perché si tratta spesso di stabilimenti dove la FIOM è molto forte, la FIOM viene ammessa al tavolo negoziale su singoli accordi, ma non viene ammessa al tavolo negoziale per la negoziazione del contratto collettivo. Questo naturalmente potrebbe significare da qui in avanti che in quel contesto la FIOM non avrà i titoli per accedere alla rappresentanza sindacale, perché l'articolo 19 riscritto dalla Corte Costituzionale non richiede più la firma della Corte, ma richiede la partecipazione alle trattative. Lo stesso è accaduto nel rinnovo del contratto Federmeccanica, parliamo del contratto nazionale di categoria. Il rinnovo è avvenuto con l'esclusione dal tavolo delle trattative della FIOM. C'è stato anche un contenzioso perso dalla FIOM a Roma a cui la FIOM chiedeva di un provvedimento d'urgenza al giudice per essere ammesso al tavolo delle trattative, perché se il requisito è diventato non la firma ma la partecipazione alle trattative, diventa luogo del conflitto, del contendere la partecipazione alle trattative. E poiché non esistono regole legali atte a garantire a un sindacato per quanto rappresentativo, anche se fosse il più rappresentativo, il diritto a partecipare a una trattativa, parlo del quadro legale, poi vedremo cosa ci dice il testo unico, evidentemente il conflitto si sposta su questo livello. Altro pilastro, altro elemento del nostro sistema che entra in crisi potente, l'RSU. Nel 1993 le tre grandi confederazioni fanno un accordo storico in cui decidono di mettere insieme il capitale di diritti che lo statuto dà direttamente alle organizzazioni sindacali per entrare nei luoghi di lavoro, potendo costituire ognuna di esse delle rappresentanze sindacali aziendali, mettono insieme questo patrimonio in una rappresentanza unitaria, le rappresentanze sindacali unitarie. Queste rappresentanze unitarie vengono elette, funzionano, contrattano insieme alle organizzazioni di categoria, tutto va bene per un po' di anni, tutto va bene finché c'è l'unità sindacale. La crisi dell'unità sindacale a livello confederale farà esplodere la crisi nel funzionamento anche dell'RSU. E cosa si scopre quando i componenti dell'RSU che fanno riferimento agli diversi sindacati in conflitto tra loro, si scopre che l'RSU è un sistema non regolato. Questo è paradossale, badate bene, perché sull'RSU ci sono infinite norme. C'è un opuscolo che viene utilizzato da alcuni sindacati in cui sono raccolti tutti gli accordi e le regole che riguardano l'RSU, dall'accordo del dicembre 1993 agli accordi nazionali e regolamenti elettorali, un opuscolo di un centinaio di pagine, fatto solo di norme sull'RSU. Bene, tutte queste norme non servono a dirimere o gestire i conflitti all'interno dell'RSU una volta venuta meno all'unità sindacale, perché tutte queste norme anche loro ritenevano come norma implicita e di supporto a tutto il sistema l'unità sindacale. si scopre ad esempio che non si è d'accordo e non si sa nulla sulla natura giuridica dell'RSU e non si sa come devono decidere l'RSU, perché in quegli accordi non c'è scritto neanche che l'RSU decidono in base al voto a maggioranza, non c'è scritto da nessuna parte. Il principio di maggioranza è previsto solo per la contrattazione collettiva, ma per le altre decisioni, per le altre azioni dell'RSU non è scritto questo principio. Non si sa se la titolarità, dei diritti sindacali e la loro gestione sia in capo all'RSU o ai singoli componenti. Non si sa quali siano i rapporti tra i singoli componenti e le organizzazioni sindacali, se un componente eletto in una lista decide di cambiare casacca, cosa succede? Non è dato saperlo in base alle regole del sistema, ma soprattutto, e qui la cosa diventa dirompente, poi ne vedremo alcuni esempi. Le parti sociali nel 1993, ma fanno le stesse errore col testo unico, non si preoccupano di rendere giustiziabili quelle regole. Anche le regole riscritte, integrate col testo unico del gennaio 2014, e qui la cosa diventa grave, non si preoccupano di stabilire dei meccanismi che rendano giustiziabili i diritti alle regole e le procedure introdotte. Cioè, se nasce un contenzioso, e come ne stanno nascendo all'infinito, non emergono ancora molto, diciamo, sul piano della visibilità pubblica, ma vi assicuro che io, come giurista, diciamo, di complemento di una grossa organizzazione sindacale, di cui seguo le questioni a livello nazionale della FIOM, lo sapete, inutile, diciamo, nasconderci, è stato già detto qual è il mio ruolo, io ho passato gli ultimi due anni, per la maggior parte occuparmi di conflitti elettorali per quanto riguarda le elezioni dell'RSU. Occuparmene non significa far cause, perché è un problema quello di stabilire come tutelare un diritto di elezione passivo attiva nel sistema dell'RSU, e ne vedremo due esempi concreti, due provvedimenti giudiziari recentissimi. Quindi è un sistema complesso nella sua articolazione, nelle sue regole, è un sistema elettorale a base democratica, semplice nei suoi principi democratici elettivi, è un sistema non giustiziabile. Vedremo che se c'è una contestazione nella presentazione di una lista dell'esito di un'elezione alla regione o alla provincia di Trento, c'è una particolare procedura. Si va davanti a un giudice e nel giro di 15 giorni si ha un provvedimento, proprio perché l'elezione presuppone che ci sia una soluzione immediata da parte del giudice rispetto a un esito elettorale. Se c'è un problema nell'elezione dell'RSU, la soluzione necessitata in molti casi è quella di fare una causa civile ordinaria e non si sa contro chi, poi vedremo. Quindi è un sistema priva di giustizia. altro punto che entra in crisi, lo statuto giuridico del contratto collettivo. Prima della vicenda Pomigliano, poi le cose si accavallano, quindi prima della vicenda Fiat, c'è un'altra vicenda epocale che scuote il nostro sistema, ed è la vicenda degli accordi separati nazionali, metallo meccanico, accordo rinnovato solo da FIM e Wilm, non dalla FIOM, ma anche in altre categorie, nel commercio avviene la stessa cosa. Anche lì parte un contenzioso. Quando partimmo con quel contenzioso, in realtà si era partiti con lo scopo di bloccare quel rinnovo contrattuale separato, di chiederne la dichiarazione di inefficacia, perché c'era un contratto del 2008 sottoscritto da tutti e tre i sindacati che non era ancora scaduto, è l'idea del contenzioso. Quando partimmo come gruppo di giuristi, di avvocati, era quello di avviare un contenzioso diretto ad accertare che almeno fino alla scadenza doveva valere quel contratto, che non poteva essere rinnovato solo prima da alcune parti e non da tutte. Ancorando questo a norme del codice civile, a principi civilistici classici. Bene, avviamo quel contenzioso anche lì in tutti i tribunali italiani e viene fuori un esito diverso, che non ci aspettavamo né noi difensori, collegio difensivo del sindacato, ma neanche i collegi difensivi di Confindustria messi a disposizione per Federmeccanica. Perché tutti i tribunali d'Italia, quelli che danno ragione alla FIOM dichiarando l'antisindacalità del comportamento dell'azienda e quelli che danno ragione invece all'azienda, ritenendo legittima l'applicazione del nuovo contratto collettivo pur separato, ci raccontano tutti la stessa storia. E cioè ci rispiegano a noi giuristi di complemento, ma lo spiegano alle parti sociali e lo spiegano alla dottrina giuslavoristica che tutta l'acqua che è passata sotto i ponti, cercando di dare una struttura giuridica, un senso al nostro sistema sindacale e alla contrattazione collettiva, è tutta finita in mare ed è sparita e non serve a nulla. Il contratto collettivo, lo statuto giuridico del contratto collettivo è sempre quello che disegnò Messina nel 1910, richiamando l'OTMA il contratto collettivo di diritto privato e le regole che governano il contratto collettivo sono le regole del codice civile, le regole dei contratti in generale, appunto. Tutto quello che ci eravamo raccontati come studiosi di diritto sindacale, vedendo le peculiarità di questo istituto, vengono cancellate dalla giurisprudenza italiana, che resetta tutto, come dire, non ci eravamo capiti, vi siete fatti delle illusioni voi attori sociali, voi giuristi. Il contratto collettivo ha le uniche regole nel codice civile. Questo significa che il suo campo di applicazione, la sua efficacia, sono condizionate dalle norme del codice civile. Significa che il contratto collettivo si applica a chi lo firma e si applica solo ai soggetti iscritti ai sindacati che lo firmano. E sono talmente convinti i giudici di questa loro ricostruzione che arrivano perfino a mettere per iscritto, a legittimare per iscritto il fatto che ai lavoratori della FIOM che hanno il contratto del 2008 si applica il contratto nazionale del 2008. Perché iscritti alla FIOM che ha sottoscritto quel contratto e non un altro. Ai lavoratori iscritti alla FIM, alla WILM, si applicherà il contratto separato tra virgolette, sottoscritto nel 2009. Perché iscritti alla FIM e alla WILM. Ma parliamo di contratti nazionali. Il che significa che i giudici ci dicono che nella stessa azienda si possono applicare, in base alle regole privatistiche del codice civile, due distinti contratti nazionali di lavoro. È pura follia. Non per i sindacati, non tanto per i lavoratori, ma diventa pura follia per i datori di lavoro. Immaginate un datore di lavoro che non solo deve fare buste paga distinte, ma deve a regimi di orari distinti. È una cosa, un puzzle impossibile. Tant'è, e qui veniamo al recupero di un dato che, diciamo, gli studiosi di diritto sindacale hanno ben presente, ma è poco, diciamo, non fa parte del patrimonio di conoscenza comune, anche per i giuristi più sofisticati, e forse neanche per i sindacalisti più sofisticati. Che in fondo nel sistema di relazione sindacale l'unica regola che governa tutto è il principio di effettività. Tant'è che cosa succede con questa giurisprudenza che ci dice che possono convivere due contratti collettivi, che gli iscritti della FIOM hanno diritto al loro contratto e gli altri si applica a quell'altro, che nella realtà si applica un unico contratto. Le aziende cercano di evitare gli scogli dove entrano in gioco norme che entrerebbero in conflitto rispetto ai due regolamenti contrattuali. Al lavoratore a cui si applica il contratto collettivo FIOM si deve applicare un trattamento diverso della malattia per i primi tre giorni rispetto all'altro lavoratore. L'azienda fa finta di non saperlo, applica il trattamento migliore e così non nasce il conflitto. Cioè con un approccio empirico le aziende e con la diciamo tacita connivenza di tutti i sindacati, FIOM, WILM e FIOM dall'altra parte, capiscono che non è acquisito il principio che la FIOM ha diritto al suo contratto e gli altri hanno diritto a loro. Siamo tutti contenti, però poi l'azienda deve essere gestita e non ci mettiamo di traverso a quello che fa il direttore del personale perché se no impazziamo tutti. Tant'è che stranamente dato quest'esito giurisprudenziale non nascono conflitti. Non nascono conflitti diciamo che emergono a livello giudiziario se non in un caso per un in un azienda, uno stabilimento della FIAT per un trattamento che viene dichiarato discriminatorio perché a un certo punto la FIAT decide di togliere gli aumenti contrattuali previsti nell'accordo aziendale. Siccome il giudice gli aveva detto che a quelli della FIOM doveva applicare il contratto FIOM nazionale, l'azienda per ripicare dice bene allora tolgo gli aumenti previsti dal contratto aziendale. Non è stata una mossa molto di gran genio. Il giudice hanno dichiarato la discriminatorietà, ha dovuto dare gli aumenti a tutti, ma tranne quel conflitto non ne sono venuti fuori perché in base al principio di effettività le parti sociali nelle singole aziende, azienda per azienda, hanno cercato di accomodarsi rispetto a quest'esito paradossale della giurisprudenza. Questo però non significa che noi tutti dobbiamo prendere atto che oggi per i giudici italiani il contratto collettivo si applica in base alle regole del codice civile e su questo non c'è spazio per nessuna, diciamo, deviazione. Questo pone tutta una serie di problemi che vedremo anche per il testo unico. Ultima e non per importanza, emerge un'altra crisi del nostro sistema. da studioso di diritto sindacale, ma da quando ero studente, e anche voi studenti adesso, difficilmente troverete nei manuali di diritto sindacale, trattato come area, come tema problematico, quella della rappresentanza dei datori di lavoro. Cioè tutte le questioni di diritto sindacale riguardano la rappresentanza sindacale vista dal punto di vista della rappresentanza dei lavoratori. Anche le discussioni sulla maggiore rappresentatività, sono tutte questioni che riguardano il lato dei lavoratori. La rappresentanza datoriale viene data come un fatto, come dire, indiscutibile, lì monolitico, fermo, stabile. Ma anche questo mito, naturalmente questo perché? Perché così era nella realtà sociale. Nella realtà sociale, fino a qualche lustro fa, la rappresentanza datoriale non c'era bisogno neanche di parlarne, si sapeva qual era. Nell'industria c'era Confindustria, c'era in alcune regioni d'Italia, Toscana, Emilia e poco più, una rappresentanza datoriale per le medie e piccole imprese, la Confapi e così via. Nel commercio c'era Confcommercio, Confesercenti, eccetera eccetera, si sapeva chi erano i datori di lavoro, da chi erano organizzati e non c'era nessuna conflittualità interna. Anche quel mondo li è tramontato. È tramontato in modo repentino e fragoroso anch'esso. Non solo con l'affermarsi di contratti privata, associazioni che nascono improvvisamente solo per sottoscrivere un contratto collettivo non si sa con chi, ma proprio per genuine conflittualità e divisioni interne del mondo imprenditoriale, che vede sì fenomeni eclatanti come l'uscita della Fiat da Confindustria, ma la minaccia di uscita di tante altre realtà imprenditoriali di grosse dimensioni, che stanno lì sempre con un piede dentro e uno fuori. E badate bene, le cose avvengono a volte in modo, con una velocità, una dirompenza, che mettono davvero in fibrillazione, in discussione tutti i capisaldi di un sistema di relazioni sindacali. Faccio l'esempio con FAPI, piccole imprese metalmeccaniche. Fanno un accordo, questa volta sottoscritto anche dalla FIOM, anzi sottoscritto dalla FIOM, solo dalla FIOM, non dalle altre organizzazioni sindacali. L'azienda inizia ad applicare quel contratto, nasce immediatamente, si scopora, si scinde dalla Confapi un'altra associazione datoriale, che poco tempo dopo, ma tutto avviene nel giro di due mesi, sottoscrive un altro contratto collettivo, con delle aziende che aderendo a Confapi hanno iniziato ad applicare il contratto collettivo Confapi sottoscritto dalla FIOM, che un mese dopo magari decidono di passare all'associazione appena nata con un contratto collettivo sottoscritto da altre associazioni. Ma questo è uno degli esempi, potrei citarvene tanti. La rappresentanza datoriale, cioè chi siede all'altro tavolo, è diventato un problema altrettanto delicato e cogente di chi siede da quest'altro lato del tavolo. Ora, rispetto a tutti questi problemi, le risposte quali sono? Si è deciso di non percorrere la strada legislativa. Ci sono stati vari tentativi, ogni volta sembra che si arrivi a una conclusione. a un certo punto ai lavori parlamentari della Commissione Lavoro sembrava si fosse arrivato un testo abbastanza condiviso da tutti. Ci sono le audizioni alla Commissione Lavoro al Senato. Anch'io vengo chiamato in una di queste audizioni a evidenziare i problemi. Tutto sembra convogliare verso... perché sui punti fondamentali si era tutti d'accordo. Vengono fatte le audizioni dei leader sindacali. Tutti i leader sindacali non vogliono la legge, lo dicono esplicitamente. Tutti. La scelta è un'altra del nostro sistema sindacale. La scelta è quella di un accordo interconfederale. È sicuramente una scelta con grande connotato positivo in ordine al tentativo di risolvere i problemi che ho evidenziato. Perché al di là del contenuto rappresenta di nuovo un ritorno, almeno nello stabilire le regole, all'unità sindacale. Ci divideremo sui contenuti, ma diciamo in qualche modo rinsaviscono tutti e dopo dieci anni di sbornie in cui ognuno pensava di poter fare da solo, le tre grandi confederazioni si rimettono insieme quantomeno a scrivere le regole. E questo sicuramente è un passo avanti importante nella ricerca di una soluzione. Il testo unico cerca di dare risposta a tutti i problemi che ho evidenziato. Come cerca di dare una risposta? Intanto risolvendo il problema della legittimazione negoziale a livello nazionale. Ricordate il problema lasciato aperto dalla Corte Costituzionale. i diritti sindacali spettano a chi partecipa alle trattative, ma non sappiamo chi ha il diritto a partecipare. L'accordo interconfederale cerca di risolvere questo problema, importando nel sistema privato il sistema pubblico, che ha dato ottimi risultati nel pubblico impiego. Partecipa, ha il diritto a partecipare alla negoziazione chi ha un determinato numero di adesioni o di iscritti o di voti ricevuti. Il famoso soglia del 5% ponderato tra iscritti e voti. Si prevede anche che il contratto collettivo nazionale sottoscritto con una maggioranza del 51% abbia efficacia vincolante per tutti. Lo stesso risultato si cerca di acquisire a livello aziendale. Anche a livello aziendale si cerca di risolvere il problema dell'efficacia del contratto collettivo, stabilendo che il contratto collettivo sottoscritto a maggioranza, sempre qui, viene chiarito il principio maggioritario dall'RSU e efficace per tutti. Si prevede che nel caso in cui non ci siano le RSU e l'accordo venga firmato sempre a livello maggioritario dall'RSA, possa essere sottoposto alla validazione referendaria e laddove la maggioranza approva il contratto anch'esso ha un'efficacia generalizzata. viene risistemata la questione, rimaneggiata l'assetto della rappresentanza sindacale unitaria con un passo importante anche qui in avanti rispetto a un sistema democratico, perché le RSU saranno totalmente elettive in questo nuovo sistema, cioè saranno elette al 100%, non ci sarà più la riserva del terzo in favore delle organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni, con un gesto, come dire, di generosità delle tre confederazioni che mettono tutto il loro patrimonio a disposizione di questa rappresentanza unitaria. Il passaggio è importante verso un ruolo crescente e di maggiore autonomia dell'RSU rispetto alle organizzazioni sindacali, perché la legittimazione negoziale sarà dell'RSU e non più congiunta rispetto alle organizzazioni territoriali, come era in passato, viene introdotto un sistema sanzionatorio per tutti quei comportamenti che mettono in discussione, e qui torna la FIAT, l'esigibilità dell'accordo, perché la parola esigibilità è la parola introdotta nel nostro sistema di relazioni industriali dalla FIAT, è il portato della cultura americana di Marchionne che introduce questo termine al tavolo delle trattative. Non esisteva, non è stato mai utilizzato nel nostro sistema di relazioni industriali. È un motivo molto semplice, perché noi tutti ritenevamo che un contratto, in quanto contratto, vincola le parti, e quindi in quanto contratto è esigibile. Non c'è bisogno di scriverlo. La parola esigibilità nella FIAT e adesso nel sistema generale del Consiglio della Testonica ha un altro significato. È ovvio che un contratto è di per sé esigibile, vincolante, altrimenti non è un contratto, è poesia. L'esigibilità significa che le parti si impegnano a non assumere comportamenti di qualsiasi tipo, e quindi anche scioperi, che mettono in discussione l'applicazione di quel contratto durante la sua vigenza. E questo non è poco, è un bel salto. Quando si parla delle modifiche del nostro sistema di relazioni industriali e della sua crisi, nella narrazione, anch'io ho fatto questo, si parte sempre dalla vicenda di Pomigliano. Ma non è così. Tutto parte un passo prima. Parte dagli scioperi di Melfi un anno prima. 15 giorni di scioperi continuativi. Cosa succede a Melfi? Melfi è lo stabilimento metalmeccanico, nel settore automobilistico più produttivo d'Europa. È stato costruito con un progetto innovativo, con metodi di lavoro innovativi, con un impegno da parte delle organizzazioni sindacali per turni di lavoro molto impegnativi per i lavoratori, sottoscritto da tutti. La Fiat, quando decide di fare l'investimento a Melfi, dice bene, io faccio un investimento, faccio una fabbrica moderna, assumo 5.000 persone, però voglio regole nuove. Se vi va bene, bene, altrimenti non lo faccio. L'investimento viene fatto perché la Fiat ha l'accordo di CGL, CISL e Will. Tutti firmano, firma anche la FIOM. Si lavora, gli accordi vengono rispettati, è uno stabilimento che produce benissimo, ripeto, all'avanguardia in Europa come produttività. poi cosa succede? Succede che i lavoratori si rompono. Si rompono materialmente, sviluppano tecnopatie per i ritmi e si rompono moralmente, non reggono più il ritmo. Il ritmo significa tanti sabbati lavorativi obbligatori a discrezione del datore di lavoro, significa turni notturni. Ma la cosa che inizia a succedere frequentemente, e da lì nasce la parola esigibilità, è che quando la Fiat chiama il sabato lavorativo, obbligatorio in base agli accordi contrattuali sottoscritti anche dalla FIOM, i lavoratori scioperano, perché non lo vogliono fare, si sono stufati, dopo 10 anni, 15 anni, non ne possono più di fare il sabato a chiamata dal datore di lavoro. Lì nasce il problema dell'esigibilità. La Fiat dice ma come? Io ho fatto l'investimento a condizione che avessi queste regole, mi avete firmato tutti e adesso mi fate gli scioperi. I sindacati, in particolare la FIOM che copre quegli scioperi, non si diverte, perché quegli scioperi nascono tutti spontaneamente e quando non sono scioperi, sono malattie. I lavoratori il sabato scioperano, si ammalano. E lì nascono le clausole dell'accordo di Pomigliano. Quando la Fiat e Marchione si siedono al tavolo per fare la stessa operazione a Pomigliano, faccio anche qui una fabbrica moderna, investo qui 5.000 posti di lavoro qui invece che in Polonia, voglio le stesse condizioni di Melfi, perché lì ho avuto una produttività adeguata, ma voglio qualcosa in più rispetto a Melfi. Cioè non voglio avere i problemi che ha avuto a Melfi da ultimo. E quindi nascono le clausole sull'esigibilità, nascono le clausole sulle sanzioni, nascono le clausole che impediscono, almeno per scelta, alla FIOM di firmare quell'accordo. Quindi tutto nasce da quello. La parola esigibilità ha quell'origine lì, nasce in questo paesino della provincia della Basilicata, nel deserto più assoluto, è quella parola che ritroviamo nell'accordo interconfederale, nel testo unico di cui stiamo parlando adesso. Risolve, mi avvio a conclusione perché mi sa che ho preso troppo tempo, risolve i problemi nell'accordo interconfederale. Qualcuno sì, sicuramente. Ad esempio quello della legittimazione negoziale, cioè chi ha diritto a trattare. Ma molti problemi purtroppo non li risolve. Allora, intanto emerge un problema di sistema. Chi ha messo le mani alle questioni fino ad oggi nell'assenza del legislatore, la Corte Costituzionale e le parti sociali col testo unico. Questi due interventi che vogliono intervenire sullo stesso problema non sono allineati. E questo crea un primo problema. Si ispirano a logiche antitetiche, anzi. La Corte Costituzionale dice ai diritti sindacali, all'articolo 19, quindi alla pienezza dell'esercizio della funzione sindacale, quel sindacato che partecipa alle trattative. Non è importante che firmi, ma che partecipa alle trattative. Perché, dice la Corte? La partecipazione alle trattative mi dà la prova che quel sindacato è effettivamente rappresentativo. È talmente forte che non lo si può tenere fuori dalla porta. Il principio di effettività. Non devo stare a sapere che caratteristica ha questo sindacato. Vedo alla fine del processo negoziale che quel soggetto ha avuto un ruolo nel processo negoziale e se l'ha avuto ho la prova che è rappresentativo. Quindi la valutazione della Corte viene posta a valle del processo negoziale basata su un dato di effettività della forza sindacale, espressa nell'azione sindacale. L'accordo interconfederale si muove una logica opposta. La titolarità dei diritti sindacali, il sindacato che deve avere la pienezza della sua funzione, non è il sindacato che in concreto dimostri di essere rappresentativo nell'azione sindacale, ma è il sindacato che ha di per sé i numeri che ne comprovano una forte rappresentatività. Il dato elettorale e gli iscritti. È un dato morfologico che non attiene al comportamento all'efficacia dell'azione. Sono attori del sistema, i sindacati che hanno l'altezza di un 80 e hanno i capelli biondi. Li fotografo, se hanno quelle caratteristiche, hanno i diritti. Ma badate bene che la forza, diciamo, elettorale e il numero degli iscritti, nell'esperienza delle relazioni sindacali non significa nulla rispetto all'effettività della rappresentanza di quel sindacato nell'azione sindacale. È un'illusione ritenere che il sindacato che ha i numeri sia effettivamente rappresentativo. È un equivoco che è presente anche nelle teste dei sindacalisti più accorti e attenti. È un motivo, ad esempio, di dissidio strutturale, strategico tra me e Maurizio Landini, che poi mi prende sul serio su quasi tutto, tranne che su questo aspetto. Dico, guarda che la FIOMM ha il 50% di iscritti in un'azienda. Non significa mica che la FIOMM è realmente rappresentativa in quell'azienda. La FIOMM è realmente rappresentativa se riesce a fare uno sciopero, a bloccare l'azienda. Ed è questo che con perfidia, nelle varie discussioni che facevamo in giro per l'Italia, nelle varie cause, financo alla Corte Costituzionale, alla fine metteva sempre come ciliegina finale Raffaele De Luca Tamayo, sofisticato giurista, ma bravissimo avvocato, che alla fine concludeva sempre così. Sarà vero che la FIOMM è il sindacato che ha più iscritti nel settore metalmeccanico? Verissimo. Che raccoglie più voti nell'RSU, adesso ci sono stati rinnovi dell'RSU, prende l'80% dei voti. Quindi è un sindacato fortissimo. Peccato, dice De Luca Tamayo, che non riuscite a fare uno sciopero. Quindi forse il dato morfologico non garantisce di effettività della rappresentanza. La Corte Costituzionale guarda l'effettività dell'azione, l'Accordo Interconfederale guarda i numeri. Vi faccio un esempio concreto di quello che sta accadendo adesso per capire come queste cose non vanno necessariamente d'accordo. Ci sono settori, ce n'è uno in particolare, la logistica, dove questo fenomeno è esploso. Nella logistica noi abbiamo una sindacalizzazione molto forte, anche perché spesso abbiamo a che fare con cooperative storiche, in alcuni casi che poi sono evolute e così via. I sindacati tradizionali, CGL e Cislegui, l'hanno sicuramente la maggioranza degli iscritti. A volte con tassi di iscrizione rilevantissimi. Non contano nulla, perché gli unici sindacati che fanno sindacato nella logistica e che impongono condizioni ai datori di lavoro sono i COBAS. Non hanno nessun iscritto, ma bloccano gli interporti. Quando decidono di scioperare i COBAS, i datori di lavoro della logistica hanno il terrore. Quando gli arriva la comunicazione di CGL, Cislegui, per la comunicazione non la guardano neanche, perché CGL e Cislegui in quel settore non contano nulla. Hanno gli iscritti, ma non conta nulla. I COBAS non hanno iscritti, ma ti bloccano l'interporto. Perché quando chiamano lo sciopero, fanno lo sciopero ad oltranza e gli lavoratori li seguono. Il secondo problema è stato già richiamato. È un accordo. E quindi è tutti i limiti di un accordo. In base alla giurisprudenza recente che ci dice che gli accordi si applicano in base ai criteri civilistici. Riguarda le aziende aderenti a Confindustria, che le ha sottoscritti, alle associazioni datoriali che le hanno iscritte. Riguarda i lavoratori e le associazioni sindacali che le hanno iscritte e i lavoratori che le hanno iscritti. Soprattutto questo sistema che prevede delle sanzioni e dei vincoli per le organizzazioni sindacali, dà una grande opportunità o vantaggio a chi decide di star fuori dal sistema. Se io non posso fare sciopero durante la vigenza di un contratto collettivo, ma in azienda ci sono i problemi, il sindacato che sta fuori, che non è vincolato a queste regole, io amo chiamarli gli indiani che stanno fuori dal fortino, hanno una grandissima capacità di azione che viene sottratta a chi sta dentro. E a questi l'accordo interconfidentale non può far nulla, non li tocca. Un Cobas che non fa parte del sistema può fare quello che gli pare, le mani libere, perché le regole di quel sistema non lo toccano. Non risolve i problemi dell'RSU. Guardate che sono problemi con cui ci si scontra quotidianamente. Io ho due sentenze, due ordinanze, anzi un'ordinanza e un decreto. Ordinanza del Tribunale di Bologna che si dichiara incompetente. Vi è un'elezione, vengono scrutinati i voti, la commissione elettorale indica come eletti due iscritti alla FIOMO, un iscritto OSB, il datore di lavoro manda una comunicazione in cui dice non riconosco l'eletto OSB perché l'OSB non ha i titoli per partecipare alle elezioni, essendo fuori dal sistema del testo unico. E assegna il seggio, l'azienda, a un rappresentante dell'UGL, cioè quello che veniva dopo come voti, come eletti. E qui cosa succede? Torniamo alla questione della giustiziabilità. Il sindacato escluso, l'USB, vuole rivolgersi da un giudice. Il primo problema che è a chi faccio causa, posto che mi hanno escluso il mio eletto. Fa causa la commissione elettorale, perché è la commissione elettorale che alla fine firma il verbale. Quindi ha dei lavoratori membri della commissione elettorale. E poi dove si rivolge? Si rivolge dal giudice del lavoro. Il giudice del lavoro gli dice scusate ma io non posso decidere su questa materia, perché questa non rientra nelle materie di mia competenza. E li manda dal giudice civile. Altro caso, Tecnosky, questo è aeroporto di Bologna. Tecnosky Roma, elezioni anche lì. Vengono fatte le elezioni. Viene esclusa dalla rappresentanza, sempre per decisione datoriale, per comunicazione datoriale, il rappresentante dell'USB anche in quel caso avvantaggio anche lì di eletti dell'UGL. L'USB non fa nulla, agisce in giudizio alla FIOM per contestare l'antisindacalità del comportamento datoriale che si è intromesso lui nella determinazione dell'esito elettorale corretto. In quel caso il giudice rigetta il ricorso, ma questo evidenzia però, queste due situazioni, evidenziano un problema di legittimazione passiva a chi chi chiama in causa di fronte a un contenzioso elettorale. Da quale giudice vai per un contenzioso elettorale di questo tipo? Queste questioni non sono toccate dal testo unico, le lasciano impregiudicate, nella consapevolezza però che oggi questi sono problemi gravissimi. Con questo concludo dicendo che a mio avviso l'accordo interconfederale rappresenta un importantissimo, non importante, un importantissimo passo avanti rispetto alla ricerca di soluzioni dei problemi che sono scoppiati in questi anni, soprattutto perché c'è la consapevolezza che le regole almeno vanno scritte insieme, ritengo che sia assolutamente inadeguato nei contenuti rispetto ai problemi stessi, cioè non è una soluzione definitiva e appagante delle questioni. Tant'è che, e torniamo al principio di effettività e chiudo, che il testo unico, che guardate bene un semilavorato, rimanda per aspetti fondamentali ai contratti nazionali di categoria. Questo semilavorato non è stato completato, quindi a rigore non è stato completato neanche il sistema di raccolta dei dati. Si parlava prima della difficoltà della raccolta dei dati quindi è un sistema che non dovrebbe essere ancora in funzione, tecnicamente. Non è completato, non ci sono ancora i dati. Bene, la magia del sistema delle relazioni industriali ci dà un esito diverso. Questo sistema che a rigore non è ancora completato viene applicato. Le lezioni si fanno in base a questo sistema che non è ancora completato, in base al principio di effettività. Con a volte cose comiche, perché la FIOM che non riconosce questo accordo partecipa alle elezioni con gli altri sindacati che gli dicono tu devi partecipare alle elezioni però noi scriviamo che le elezioni vengono indette in base al testo unico. La FIOM presenta le liste senza fare nessuna dichiarazione. Oppure si fa riferimento alle regole interconfederali vigenti. Cioè non si scrive neanche su quali regole si fanno le elezioni proprio per garantire che comunque vengano fatte. Il principio di effettività ci dice che questo testo unico che ancora non è pienamente completo nel suo programma regolativo di fatto viene applicato e sta funzionando come meccanismo elettorale. Non risolve però i problemi di cui dicevo prima. Quindi un passo avanti importante ma a mio avviso senza un intervento legislativo noi non verremo fuori dalle sabbie mobili dove tutto il sistema è precipitato negli ultimi anni. Grazie e scusate per l'eccessiva lunghezza dell'intervento. Grazie davvero perché anche la chiarezza penso che sia stata molto apprezzata dagli studenti perché davvero è ricostruire non in tempi lunghi in tempi quello che serve dei processi molto difficili. Visto che siamo clamorosamente in anticipo se ci sono delle domande, degli interventi abbiamo il tempo per farli prima delle conclusioni che sono affidate a Pomini. Non è obbligatorio però è auspicato. Giovane studente. Ringrazio molto Franco Focaretta per essere ritornato a Trento. Mi ha messo addosso molta nostalgia perché eravamo un gruppetto di giovani che facevano parte di quella che allora esisteva ancora come scuola di Bologna e dicevamo sempre Focaretta è il più bravo di tutti e perché era il più bravo di tutti quando faceva le conferenze era sempre quello più avete visto oggi la pacatezza e l'ordine con cui ha esposto e anche la cume con cui ha messo in fila insomma le sue opinioni. Franco voglio farti un paio di domande diciamo su quello che hai detto con un commento. È chiaro che il principio di effettività è quello che il principio di effettività vale sempre perché il principio di effettività cosa dice? Che l'ultima azione che è compiuta è quella che ha cambiato la realtà. Non è detto che l'ultima azione che è stata compiuta è la più giusta diciamo. Per questo che abbiamo bisogno di alcune regole a priori che ci indichino. Non possiamo lasciare il sistema solo che si autogoverni e di cui poi è la giustificazione di qualsiasi intervento legislativo. Io avrei voluto chiederti se tu eri per l'intervento legislativo però l'hai detto molto chiaramente se non interveniamo dal punto di vista legislativo il sistema non si tiene. Quello che volevo chiederti è questo. La vicenda Fiat nasce per molte problematiche però all'interno delle tante problematiche che c'erano nasce per un problema il rapporto tra contratto collettivo nazionale e contratto collettivo aziendale in cui poi la Fiat è stata molto aiutata da questa giurisprudenza per cui il contratto aziendale può derogare senza problemi al contratto collettivo nazionale e così via. Volevo chiederti come vedevi questo problema perché se si interviene dal punto di vista legislativo è difficile non intervenire anche su questa problematica, è difficile anche tenere solo questa problematica solo dentro gli accordi interconfederali e questo è un problema diciamo che abbiamo anche in rapporto agli altri sistemi europei in cui invece esistono degli strumenti per cui a livello aziendale. Questa è la prima problematica e l'altra problematica è quella che comunque sia, riprendo diciamo dalla proposta che tu ben conoscerai di Freccia Rossa insomma dei nostri colleghi, non so se chiamarli vicini a Confindustria ma o... C'è anche Franco Scarpelli. Sì, c'è anche Franco Scarpelli per cui ammesso ma non concesso che sia ancora diciamo integralmente... in quella proposta come tu sai c'è anche una norma sulla deroga alla legge molto circoscritta ma insomma solo in casi eccezionali nell'accordo Fiat anche c'era forse in maniera meno pervasiva di quello che all'inizio si disse perché all'inizio sembrava che fosse tutto contro la legge ma poi in sostanza forse c'era una normetta sull'orario di lavoro che contrastava con la legge il resto erano problemi soprattutto diciamo di contratto nazionale e contratto aziendale per cui su questo ti chiederei di completare il tuo ragionamento perché questo è poi un problema concreto che noi oggi abbiamo sostanzialmente per cui non è solo un problema di dare ordine a delle relazioni industriali in cui molti si sono mostrati anche inadeguati a cominciare dallo stesso Marchionne quando uscì dalla Confindustria solo per sfilare diciamo il problema dell'RSU e dando luogo poi alla sentenza della Corte Costituzionale potrebbe essere scritta meglio io avrei visto meglio una sentenza interpretativa con un monito al legislatore a intervenire è stata scritta proprio pensando al caso concreto l'unico caso che ci rientra era quel caso lì non so se qualcun altro se vuoi raccogliere tutte le domande può intervenire alla fine beh forse è meglio che rispondi perché le cose che hai messo sul tappeto sono delicate sono rimaste sotto traccia nella mia allora intanto una precisazione sulla legge io ritengo che per risolvere i problemi che indicavo sia inevitabile una legge non ho mai amato e non amo l'idea di un intervento della legge però nella crisi di rappresentanza delle parti sociali da un lato all'altro la legge diventa uno strumento inevitabile ho un grande terrore rispetto alla legge una legge che sposi incondizionatamente e irrimediabilmente dico io il principio maggioritario cioè io temo una legge che penalizzi il primo comma dell'articolo 39 della Costituzione cioè la libertà sindacale e il pluralismo sindacale una legge che sposi incondizionatamente il principio maggioritario che mette insieme rappresentanza azione contrattuale quindi legittimazione contrattuale un sistema di sanzioni e magari dentro anche la legittimazione a indire uno sciopero tutto sposato sul principio maggioritario a me terrorizza abbastanza perché significa mettere in discussione il pluralismo sindacale la libertà sindacale dell'articolo 39 del primo comma questo per chiarire il mio atteggiamento rispetto alla legge cioè la vedo come un inevitabile e ineludibile sciagura a questo punto venendo al merito delle questioni allora è profondamente vero quello che dici sul punto di dissidio e il punto delicato nella posizione della FIOM e anche nel dissenso su Pomigliano quando quell'accordo venne tacciato di incostituzionalità di norme e che quindi anche Landini si è speso non lo firmo perché è contro la Costituzione lì ci fu un litigio furibondo tra me e Rocella che sosteneva questo il compianto Rocella che lui convince Landini di questa diciamo illegittimità sul piano legislativo io continuavo a sostenere che non era un problema di violazione di norme di legge erano altre questioni però ero più giovane e meno autorevole quindi lì proprio ci fu secondo me un equivoco però tranne che su un punto però per me non era un problema il problema però era un altro ed è un problema sistematico cioè a dire quello che non si accetta da parte di alcuni sindacati ovviamente non di tutti è l'idea di un contratto collettivo nazionale che diventi diciamo in qualche modo una norma di riserva e che il baricentro del sistema delle relazioni industriali si sposti a livello aziendale con una totale libertà di azione dei soggetti aziendali questo è il punto di scontro vero naturalmente è un punto di scontro vero che a mio avviso ha avuto già il suo esito perché i contratti nazionali non si rinnoveranno non tutti si rinnoveranno con difficoltà e soprattutto non si rinnoveranno come rinnovo vitale di contenuti sconfitto perché sia sul piano normativo l'articolo 8 che sul piano delle prassi concrete di contrattazione i contratti aziendali ormai ampiamente sfruttando l'apertura della giurisprudenza derogano i contratti nazionali anche lì un errore di prospettiva quando la FIOM dice io non posso accettare che i contratti aziendali possano derogare in peso al contratto nazionale io mi sono sempre permesso e insisto a dire guardate che questo è sempre avvenuto e può avvenire per la giurisprudenza non è una novità è una novità sul piano sindacale del ritenerlo accettabile o meno ma non è una novità sul piano giuridico però il punto è quello cioè se il sistema debba essere incentrato ancora su un contratto nazionale che svolge la sua funzione sia di ridistribuzione complessiva del reddito e della ricchezza e quindi gestendo realmente la leve salariale come non avviene più da anni ma soprattutto rappresentando un tessuto di diritti di base riconosciuta a tutti i lavoratori nei vari settori o seppure debba essere una cornice entro la quale ci si muove liberamente semmai interviene solo in assenza di contratto aziendale il sistema si sta spostando verso la contrattazione aziendale e probabilmente non è che si sta spostando il processo è già avvenuto noi ancora non lo fotografiamo ma io che seguo anche diciamo da vicino le realtà aziendali nel territorio dove vivo la stessa FIOM dove è forte del contratto nazionale come dire le cose si giocano a livello aziendale sia dove c'è la ricchezza dove c'è la produttività facendo accordi adesso si fanno accordi perfino che escludono l'applicazione del Jobs Act quindi a livello aziendale dove sei forte la contrattazione è ancora una contrattazione acquisitiva che innova che è vitale ma il baricentro aziendale naturalmente ha anche le situazioni di difficoltà e di crisi dove lì si ci vogliono le deroghe articolo 8 o meno che si ha l'articolo 8 è la norma che consente le deroghe sia la legge sia la contrattazione collettiva quindi questo per rispondere un po' a tutte e due le questioni uno dei punti fondamentali dell'evoluzione del nostro sistema è che il sistema inevitabilmente si sposta a un livello aziendale e qui nascono i problemi però perché uno dei motivi di critica rispetto al testo unico è che a livello aziendale la partita viene messa tutta in mano all'RSU questo significa non solo mettere in discussione il contratto nazionale ma significa mettere in discussione anche il ruolo delle associazioni sindacali questo è un punto molto delicato dell'evoluzione del sistema perché un sindacato nazionale che non fa il contratto nazionale o comunque non fa più un contratto nazionale centrale nel sistema e non è più neanche protagonista degli accordi aziendali perché gli accordi aziendali sono nella disponibilità esclusiva dell'RSU è un'associazione sindacale che non ha più molto senso è un'associazione culturale non è un'associazione che fa sindacato cioè che gestisce la determinazione delle condizioni di lavoro e questo è il problema strategico che è il nostro sistema cioè come coniugare inevitabile aziendalizzazione in qualche modo delle reazioni sindacali con un tenere in piedi degli attori sociali dei sindacati che nel nostro paese hanno un ruolo come dire fondante della nostra democrazia reale spero di aver risposto a questi due quesiti la deroga alla legge segue la stessa la stessa logica insomma le deroga al 2.112 vengono firmate da tutti i sindacati quando c'è una situazione di crisi e bisogna salvare un pezzo dell'azienda io ne ho visti tanti per le mani firmati da tutta l'associazione sindacata bisogna intendersi però sul ruolo e anche su chi controlla queste deroghe cioè una cosa se la deroghe è messa nelle mani del singolo delegato della singola RSU una cosa se la deroghe è messa in mano l'associazione sindacale buongiorno sono Silvestrin lei è stato molto chiaro ed è difficile creda perché agire in un contesto dove ci sono passioni determinate anche da condizioni di vita e di lavoro che giustamente lei ricordava non deve essere molto molto facile io pongo velocemente una questione che tocca democrazia sindacale rappresentanza e decentramento contrattuale e che si pone all'interno di quello che lei giustamente pone come una prospettiva cioè l'evoluzione di un sistema che non si regge tocca gli studenti in modo particolare perché almeno per un breve periodo li vedrà protagonisti passivi e mi riferisco credo sia chiaro a tutti coloro i quali non sono inseriti non sono tutelati non hanno un sistema di rappresentanza è un problema per il sindacato è un problema per il sistema paese è un problema per quelli che dovranno comunque approdare a questo in questo tragitto che purtroppo diventa sempre più lungo quindi c'è democrazia sindacale c'è democrazia in un sistema paese quando oramai la maggioranza dei lavoratori non ha una rappresentanza grazie qui diciamo la risposta è già nella domanda è evidente che non è il nostro sistema industriale il nostro sistema di relazioni sindacali che esclude una parte dei lavoratori sempre più significativa e probabilmente destinata a diventare ancora più significativa laddove è prevedibile che quando ci sarà una generalizzazione delle nuove regole sui licenziamenti che via via avranno un'applicazione generalizzata i tassi di sindacalizzazione e di azione sindacale diminuiranno in Italia perché dove non c'è una copertura sui licenziamenti è difficile anche più difficile fare sindacato soprattutto quando non ci sono più le fabbriche con 10.000 lavoratori tutti insieme nello stesso posto in cui anche senza la tutela contro i licenziamenti i lavoratori potevano avere un protagonismo non abbiamo più la grande fabbrica non abbiamo più la tutela contro i licenziamenti il sindacato sarà difficile anche per i cosiddetti garantiti non solo per quelli fuori però mi permetto di dire questo non è un problema solo del sistema sindacale che non rappresenta e non copre una parte del mondo del lavoro io lo pongo in termini di problema proprio di cittadinanza cioè noi siamo un paese probabilmente non solo noi ma sicuramente noi più di altri perché i tassi di lavoro precario di lavoro nero e di lavoro fintamente autonomo che ci sono in Italia non sono riscontrabili in nessun altro paese al mondo siamo un paese che ha accettato e deciso che una parte soprattutto di giovani comunque di lavoratori sia al di fuori da una piena cittadinanza punto questo poi si riflette anche nei tassi di partecipazione al voto nelle elezioni politiche non solo nei tassi sindacali cioè è un problema che va secondo me molto più grande dello stesso grande problema della rappresentanza sindacale buongiorno a tutti anche io saluto Franco volentieri non ho un passato trentino condiviso ma ho un passato bolognese in parte condiviso e le osservazioni che Luca faceva sulla sua cume sono anche condivise ricordo qualche seminario uno in particolare con il professor Ghezzi su il massimario della giurisprudenza probivirale di Redenti e lì ci raccontasti cose molto diverse da quelle attuali legate al contenzioso ma cose che però ci facevano pensare a una storia un ruolo significativo da parte di soggetti che non appartenevano all'ordine giudiziario in senso stretto dico questo perché ho avuto una sensazione rispetto alle cose che dicevi mi dispiace di essere arrivato un po' tardi quindi ho perso l'inizio però penso di poter cogliere la sostanza tu hai fatto giustamente riferimento al criterio di effettività e allo stesso modo io ho avuto la sensazione che nel tuo racconto tu ci dicessi che in fondo era tutto un po' legato la dimensione della democrazia sindacale è legata alla dimensione della contrattazione all'efficacia del contratto è legata alla struttura contrattuale ed è legata ce lo dicevi rispetto alla vicenda di Melfi anche allo sciopero e io non riesco a capire come si possa pensare di intervenire con una legge condivido il fatto che si tratti di una sciagura io non me la augurerei ecco proprio perché la considero una sciagura e punto non riesco a capire come si possa pensare di intervenire con una legislazione toccando soltanto uno di questi profili perché a mio avviso toccando magari soltanto il tema dell'articolo 19 si rischia di sbilanciare tutto il resto e comunque di non risolvere gli altri che restano molto legati al tema dell'effettività come si fa a regolare la rappresentanza senza toccare il diritto di sciopero come si fa a regolare l'efficacia del contratto senza regolare la struttura contrattuale cioè ci sono dinamiche che attengono all'effettività al mercato alla dimensione dei rapporti materiali alla dimensione dei rapporti di forza che non riescono ad entrare non possono entrare dentro una disciplina legislativa non penso sia un caso che tutti i processi legislativi si siano sempre arenati ad un passo dalla conclusione tu hai citato il settore pubblico ecco il settore pubblico ha effettivamente dei punti forti però mostra anche i suoi punti deboli se noi guardiamo al di là dei blocchi la contrattazione del settore pubblico da qualche anno non c'è più per ragioni diciamo esterne mostra anche dei punti deboli perché quel criterio di misurazione delle soglie il 5% 50% eccetera è in realtà un criterio che si presta ad un alto contenzioso e a conflitti che sono dello stesso tipo si litiga poi su come si definiscono gli ambiti contrattuali su come si definiscono le soglie del 5% e quindi accade spesso nel settore pubblico negli ultimi tempi abbastanza diffuso che ci sia quello che accade un po' nei sistemi elettorali nei sistemi politici cioè che ci sono delle manipolazioni opportunistiche tipo gerrymandering per cui i soggetti manipolano gli ambiti negoziali per ottenere il risultato voluto quindi vedo dei rischi di contenzioso anche da quel punto di vista è noto anche un cortocircuito fra il problema della democrazia sindacale il problema della gestione della democrazia interna e il problema dell'applicazione giudiziale delle regole sui contratti collettivi perché se è vero e tu ci racconti casi in cui il contenzioso è forte sul terreno della democrazia interna e non si può pensare di risolvere quel contenzioso con l'ausilio di canoni interpretativi tipici del diritto pubblico cioè quelli che hanno a che fare con l'elezione politica e poi allo stesso tempo bisogna essere consapevoli e quindi non si può correre il rischio che allo stesso tempo poi al giudice si carichi l'interpretazione del contratto collettivo in una chiave esclusivamente privatistica cioè vedo una dimensione diciamo di sdoppiamento che i giudici tendenzialmente non assumeranno per questo mi veniva in mente semmai pensando alla prima parte del nostro titolo cioè l'idea di democrazia sindacale che ci sono degli studi passati ma interessanti di diciamo accademici prestati al sindacalismo o viceversa sulla democrazia sindacale sulla democrazia minima penso agli studi di Bruno Manghi declinare crescendo democrazia minima cioè studi che guardavano alla dimensione interna sindacale e quindi agli strumenti interni di giustiziabilità è forse lì che dobbiamo pensare di trovare le nostre risposte quindi se dovessi augurarmi qualcosa più che una legislazione eteronoma sul terreno della contrattazione collettiva della rappresentanza e quindi sull'assetto contrattuale mi augurerei la capacità di regolare dall'interno attraverso questi strumenti anche quelle dinamiche e anche quelle forme che hanno a che fare col raccordo fra il soggetto sindacale come attore di democrazia e i prodotti dell'autonomia sindacale anche io volevo fare una considerazione in particolare sul tema della aziendalizzazione della contrattazione collettiva che erode un po' il sistema delle relazioni delle relazioni sindacali la rilevanza del contratto soprattutto a livello aziendale è esplosa sicuramente con la vicenda Fiat che però è anche un contratto aziendale del tutto particolare perché ha una rilevanza sostanzialmente nazionale però c'è anche da dire da fare un ulteriore rilievo cioè verso questo processo di aziendalizzazione spinge il legislatore in tutte le leggi sui contratti flessibili ci sono i vari rinvii le varie norme di carattere derogatorio e dal 2010 in poi tutte queste disposizioni rinviano ai contratti collettivi di diverso livello rispetto a questo diciamo atteggiamento a questa spinta del legislatore il testo unico invece tende a dirrigidirsi e a ribadire la regola secondo cui deve valere la regola dell'articolazione insomma e quindi il contratto aziendale deve intervenire solo sulle materie delegate ed è questo il problema che è esploso nel caso Fiat perché la disciplina dell'orario la deroga all'orario non poneva problemi rispetto alla legge poneva problemi rispetto all'effetto del contingentamento delle 40 ore sul lavoro straordinario c'è quindi una discrasia nell'interventismo del legislatore quantomeno nella promozione dell'azione sindacale rispetto a ciò che l'organizzazione sindacale invece vuole fare questo aspetto secondo me e questa è un po' la domanda si lega al dato dell'effettività soprattutto se correlato al criterio maggioritario che il testo unico vorrebbe introdurre perché l'hai detto in maniera anche abbastanza chiara il criterio maggioritario talvolta porta alcune sigle sindacali a lasciar firmare il contratto collettivo a qualcuno e diciamo così starne fuori tenersi fuori e lucrare il vantaggio diciamo sindacale perché quel contratto soprattutto derogatorio io non l'ho firmato e allora l'ultimo problema è quel qui l'esigibilità in definitiva è un problema di efficacia del contratto collettivo e tu l'hai descritta come un problema del datore di lavoro che aveva l'esigenza di ottenere l'esigibilità di quel contratto però se la vogliamo vedere dal lato dei lavoratori diventa proprio un problema di efficacia di ambito di efficacia erga omnes del contratto collettivo l'applicabilità cioè di quel contratto a tutti i lavoratori anche quelli aderenti ai lavoratori non iscritti allora andando per ordine la legge deve necessariamente occuparsi di tutto non sono molto d'accordo su questo punto nel senso che noi possiamo ipotizzare a mio avviso leggi minimali che vanno a toccare uno di questi singoli aspetti naturalmente bisogna avere la consapevolezza del tutto ma non lo escluderei d'altronde se pensiamo allo statuto dei lavoratori è una legge che si occupa della rappresentanza dei diritti sindacali non si occupa della contrattazione collettiva non si occupa dello sciopero è per molto tempo una legge che ha funzionato egregiamente sul piano diciamo degli assetti regolativi della realtà sindacale naturalmente lì c'era fuori l'unità sindacale fuori dallo statuto dei lavoratori oggi quella non c'è più e quindi diventa molto più complicato ma non impossibile non impossibile a mio avviso per quanto riguarda la questione della della che è evidenziato bene la questione dei dati della giustiziabilità dei dati perché oltre che sull'RSO un conflitto immaginabile è non risolto dal testo unico è proprio quello sulla gestione raccolta verifica convalida di questi dati perché è prevedibile che un sindacato che si vede chiusa la porta di accesso perché gli si dice che al 4,9% non è che prenderà la cosa senza reagire quindi è prevedibile un contenzioso che lì non viene affrontato sono perfettamente d'accordo sul fatto che la via maestra non deve essere necessariamente non è opportuno forse che sia quella di rendere giustiziabili davanti ai giudici dello Stato questa materia probabilmente una consapevolezza dei problemi avrebbe portato avrebbe dovuto portare all'individuazione di meccanismi snelli e veloci di risoluzione arbitrale di queste controversie sarebbe bastato introdurre una clausola arbitrale chiarendone i presupposti i soggetti non il collegio arbitrale contenuto nel testo unico che altri definiscono plotone di esecuzione e quello non è un meccanismo di giurisdizione è un meccanismo di sanzione punitivo verso il dissidente interno collegio arbitrale per potersi di tale presuppone una terzietà del soggetto ma una normale clausola arbitrale che dice viene istituito un collegio arbitrale con queste caratteristiche o comunque le parti possono rivolgere un collegio arbitrale in base alle norme sull'arbitrato del codice di procedura civile consentirebbe una giustiziabilità di queste clausole di queste regole nell'arco di settimane e mesi piuttosto che di anni o dell'incertezza del processo però bisogna avere la voglia e l'intenzione di farlo e la consapevolezza che non c'è sulla questione dell'aziendalizzazione beh qui è evidente che ci muoviamo in un'ottica apparentemente schizofrenica e chiarisco perché apparentemente il legislatore si muove in modo deciso spinto verso l'aziendalizzazione della contrattazione dei rapporti sindacali lo fa in tutti i modi in tutte le occasioni con la decontribuzione dei fiscali di riduzione del carico fiscale sulle retribuzioni di produttività cioè vuole che le questioni vengono vuole un sistema basato sul contratto aziendale quanto sia consapevole e ragionata questa scelta non lo so non so da chi di fatto però i dati normativi ci dicono univocamente questo il sistema sindacale no ma perché dico apparentemente perché badate bene il fatto che nell'attesto unico venga richiamato in servizio il principio dell'articolazione cioè il contratto aziendale può muoversi su quelle materie demandate dal contratto nazionale noi tutti sappiamo che non significa nulla queste clausole di rinvio esistevano nel protocollo del 93 esistevano in tutti gli accordi interconfettati ma non sono mai rispettate cioè i signori seduti qui lo sanno benissimo che quelle sono clausole così di stile se non gli si vuol dare corpo cioè diventano sostanza se il sindacato quel sindacato in quel settore decide di mettere un punto fermo all'edera o a livello aziendale ma se il sindacato non decide di farlo concretamente quelle clausole di rinvio non hanno nessun valore giuridico ma perché giuridicamente non hanno valore sono clausole obbligatorie non comportano la nullità come avviene nel pubblico impiego di un contratto aziendale in deroga al contratto nazionale che si occupa di una materia non demandata al contratto nazionale viene stipulato il contratto cosa si fa? mica si può portare davanti a un giudice per chiedere la nullità tant'è che non viene fatto quindi a mio avviso magari penso male è un mio pensiero maligno ma io sono certo che quelle clausole sono state scritte nel testo unico con la consapevolezza che sono clausole che sono sempre esistite e sempre quando si è voluto vengono tranquillamente disattese la questione dell'esigibilità intesa come vincolatività per tutti ma questo è il grosso problema per questo dico che se si vogliono raggiungere dei risultati ci vuole la legge perché tu col contratto rischi di fare dell'autolesionismo in situazioni critiche cioè il sindacato che sta dentro le regole del testo unico che va a firmare un accordo oneroso per i lavoratori perché lo si tiene giusto inevitabile l'unica via d'uscita in una determinata situazione sul piano della sua diciamo vitalità efficienza sindacale spesso fa un inevitabile atto di autolesionismo perché apre la strada le autostrade anzi non la strada al dissenso individuale prima sindacale poi cioè questo è un sistema che così congegnato io non so quanto ci abbiano riflettuto a livello nazionale porterà inevitabilmente se implementato e diventa davvero sistema diffuso al proliferare al crescere di realtà sindacali esterne cioè è un gancio fortissimo a realtà sindacali esterne soprattutto con la previsione di quella vincolatività e di quelle sanzioni per chi sta dentro secondo me non l'hanno riflettuto abbastanza quando spavaldamente tutti e tre i segretari confederati hanno detto no la legge a noi non serve no la legge non serve facciamo noi perché questo hanno detto alla commissione della camera grazie io devo dire sono un po' in difficoltà nel pensare di fare delle conclusioni quindi vorrei fare forse delle considerazioni forse meglio le ritengo più opportune intanto penso che dovremmo un po' in questa discussione inquadrare il nostro mondo che non è un mondo perfetto è un mondo perfettibile ma è un mondo non perfetto perché noi cerchiamo di darci delle regole interne queste regole interne come si è capito bene dagli interventi compreso l'ultimo valgono se si decide di rispettarle io penso quante volte nella nostra vita interna alziamo le mani e votiamo i nostri statuti le nostre regole nel momento in cui abbassiamo le mani abbiamo già pensato a come eludere ed evadere queste regole e questo è un problema intanto perché manca poi diciamo il giudice o l'arbitro che dice no la regola tu tra l'altro l'hai votata è quindi opportuno che la rispetti se no dovevi fermarti prima e dire che non eri d'accordo e fare una tua giusta battaglia al limite di minoranza ma una giusta battaglia contro queste regole ma questa questione parlando delle regole interne del sindacato pone un tema che mi pare stato trasversale e che credo sia stato anche il tema se vogliamo guardarla positivamente che ha provato a porre Marchionne cioè la serietà degli attori nel momento in cui ci si siede un torno a un tavolo per fare una trattativa e vedere di risolvere assieme un problema si dà per scontata forse sbagliando una serietà degli attori che quindi si concentrano sul problema che hanno di fronte a loro non inquinato da altre vicende politiche ideologiche di credo di fede di strumentalità anche in certi momenti no cioè una trattativa importante come quella della Fiat con un Marchionne di fronte che sapeva di giocare un ruolo importante anche più partite rispetto a questo ha messo credo anche un carico di strumentalità che ha fatto un po' derivare no le questioni il tentativo poi di normare queste questioni cioè di far diventare l'insieme delle regole che il sindacato ha cercato di darsi vere esigibili ha portato all'intesa di gennaio dell'anno scorso che come abbiamo visto nella relazione di Focaretta ha ancora dei buchi non solo interpretativi ma anche dei buchi diciamo di applicazione che vanno credo risolti piuttosto velocemente altrimenti l'impalcatura stessa dell'accordo e quindi la serietà dell'accordo quindi questo principio di serietà e di esigibilità delle regole che l'accordo voleva dare viene pesantemente messo in discussione ma torno anche al tema di prima cioè il sindacato si muove sempre su un terreno molle sempre su un terreno non solo per le cose che vi dicevo prima no cioè anche al nostro interno riuscire a stare assieme all'interno della stessa organizzazione all'interno delle tre organizzazioni sindacali non è facile ma anche per il rapporto che si ha con gli imprenditori spesso e volentieri non ci troviamo di fronte imprenditori seri cioè per serietà io dico mantenere poi la parola data io dico sempre che il problema non è fare un accordo può sembrare paradossale ma il problema è far rispettare l'accordo perché spesso e volentieri l'imprenditore o l'associazione imprenditoriale che si è seduta con noi magari spendendo anche molto tempo per fare un accordo il minuto dopo rende quell'accordo inesigibile e quindi questo non va ovviamente assolutamente bene e poi abbiamo anche un terzo incomodo diciamolo uso non a caso provocatoriamente questo termine terzo incomodo che sono anche le persone che noi dovremmo rappresentare iscritti e non iscritti ha toccato prima uno dei tre professori seduti di fronte a me il tema dell'erga omnes noi facciamo contratti magari con pochissima rappresentanza in quell'azienda certe volte non ce n'è quindi una rappresentanza che ci deriva insomma dalla nostra struttura nazionale cerchiamo grazie a questi poi di fare una rappresentanza quindi di fare gli iscritti tante volte non veniamo ascoltati tante volte ci muoviamo nel disinteresse più assoluto no e perché si dà per scontato che alcune cose ci siano e perché non si è semplicemente interessati a questo si dà per scontato che c'è un contratto nazionale si dà magari per scontato che c'è un contratto aziendale e poi io vado a farmi la mia trattativa tutto sommato lo dico come provocazione per provare a ragionare a far ragionare ognuno nella propria testa e quando il giudice mi dice agli iscritti della FIOM applico un contratto agli iscritti della FIM e della UIM applico un altro contratto non mi sembra un'idea strana dentro un sistema di regole che deve essere riconosciuto certo poi il professore ci ha illustrato bene prima allora poi il datore di lavoro può fare il furbo perché il coltello il manico del coltello poi resta nelle sue mani allora a te applico una regola in un modo a te ne applico in un'altra poi i non iscritti bisognerebbe capire a quelli che contratto io vado ad applicare quindi anche questo esempio su cui abbiamo di fronte cioè i lavoratori e i lavoratrici la dice poi lunga rispetto al terreno su cui si muove il sindacato confederale poi abbiamo anche sindacati non confederali abbiamo anche ogni tanto sindacati che nascondono associazioni di avvocati di dietro e quindi anche qui si stempera molto il meccanismo della rappresentanza non siamo nemmeno aiutati dalla politica io ho il terrore di una legge che vada a regolamentare la rappresentanza sindacale soprattutto poi in questi decenni di politica che non c'è di politica una volta affidata alle televisioni oggi è affidata a twitter perché questi sono temi delicatissimi sui quali bisognerebbe ragionare non nello spazio di 160 caratteri ma bisognerebbe prendersi anche il tempo per ragionare perché una volta fatta la legge il legislatore ha deciso che sindacato c'è soprattutto ha deciso quando ci sarà o non ci sarà il sindacato ricordiamoci che il sindacato al di là di quello che scrivono gli organi di stampa confondendo molto spesso patronati e CAF con le organizzazioni sindacali il sindacato c'è perché vive delle rimesse degli iscritti io mi scrivo al sindacato e il primo atto è la trattenuta in busta paga che mi viene fatto sulla pensione che mi viene fatta per dar sostegno al sindacato presso quale sono iscritto cosa diversa sono i CAF i patronati che vivono di convenzioni con lo Stato con le province e con i comuni in base a quelle convenzioni danno dei servizi e questi servizi vengono vengono pagati quindi figuriamoci se ci fosse un governo che va a regolamentare queste cose quanto un sindacato rischierebbe di diventare un sindacato giallo no? cioè se mi dai ragione bene altrimenti sei nella nomea berlusconiana comunista nella nomea renziana gufo e quindi io ti tolgo dai piedi quindi su questo tema io penso che è meglio continuare a muoversi in un sistema di regole bilaterali che noi faticosamente abbiamo sempre cercato di costruire con le nostre controparti ci sono controparti associazioni con cui riusciamo a farlo un po' meglio la confindustria un po' meglio nel senso che riusciamo a scrivere delle regole poi come abbiamo visto nella relazione del professore queste regole non sono perfette sono perfettibili altre associazioni di rappresentanza con le quali noi non siamo ancora riusciti a scrivere delle regole non riusciamo a scrivere delle regole anche perché è più facile tra virgolette entrare in una grande impresa piuttosto che entrare in una piccola piccolissima impresa e però noi anche questi lavoratori e lavoratrici li tuteliamo e perché facciamo dei contratti nazionali e perché riusciamo a fare anche dei contratti territoriali non entriamo nelle aziende direttamente ma ci entriamo grazie alla contrattazione territoriale e perché ci entriamo dando a questi lavoratori a queste lavoratrici dei servizi con i nostri caffi con i nostri patronati quindi in questo mondo imperfetto non è poi semplice fare delle regole a me è piaciuto lo spunto del professore nella sua relazione quando dice ma tutto sommato il sistema di regole che è stato messo assieme stava in piedi su un vincolo no? cioè il vincolo che malgrado discussioni malgrado lacerazioni per esempio ci sono state negli anni 80 sul tema della scala mobile però CGL e CISLEWILL bene o male sono sempre state assieme invece gli eventi degli ultimi anni hanno mostrato una divaricazione forte una firma di contratti che è stata fatta non unitariamente però attenzione anche qui questi non sono stati passaggi indolori sono stati passaggi oltre che complicati che sono durati nel tempo e quindi le rispettive categorie metalmeccaniche piuttosto che commercio ricordo questi episodi avevano il tempo per provare a ricostruire una dimensione unitaria che evidentemente non si è riuscita a trovare c'è stato anche un fatto culturale secondo me no? che ovviamente ha lasciato e lascia degli strascichi cioè il fatto che non sono più stati firmati contratti assieme ha posto anche di fronte al mondo del lavoro agli imprenditori e ovviamente in primis al sindacato proprio questo nuovo percorso cioè su alcuni contratti su alcune questioni non ci si è più mossi con la firma di Cigelle e Cisleuil ma ci si è mossi in percorsi diversi col sindacato tra l'altro che molto confliggeva con se stesso e anche con dei lavoratori chiamati a derimere una conflittualità tra le organizzazioni sindacali e spesso e volentieri i lavoratori questo cerino non l'hanno voluto tenere in mano l'hanno rimesso in mano le organizzazioni sindacali io dico anche giustamente perché no se le tre sigle non andavano d'accordo era difficile trovare un collegio arbitrale nei lavoratori che erano dentro queste aziende sulle quali si chiedeva di esprimere un giudizio da una parte piuttosto che rispetto all'altra parte su un percorso intrapreso firmiamo un contratto o non firmiamo un contratto e poi anche questo tema della rappresentanza credo che riguardi il problema i problemi che hanno anche le associazioni imprenditoriali non cito il caso come dire di questa rappresentanza qui in provincia di Trento che sta affannosamente cercando un proprio presidente che dovrebbe deciderlo anche in tempi veloci no cioè non ci sono volontari anche i saggi non trovano candidature ma questo tema è un tema che penso riguarda anche a noi no cioè se noi abbiamo delle associazioni imprenditoriali che non riescono ad esprimere una rappresentanza sono associazioni imprenditoriali più deboli se ci sono degli imprenditori come ha fatto la FIA di Marchionne che sono usciti dalla Confindustria e capita anche a tanti imprenditori trentini di uscire dalle proprie associazioni di rappresentanza questo non ci fa felici questo faccio un passo un terriore non ci deve far felici non è solo un problema che magari domani ci vediamo anche disdetto il contratto nazionale che prima veniva applicato perché io facevo parte come azienda di questa associazione imprenditoriale quindi applicavo questo tipo di contratto di lavoro ma non ci deve far felici per la polverizzazione per il caos ha usato prima questo termine il professor Focaretta che poi si crea nelle relazioni sindacali quindi di nuovo torna il tema della serie etano cioè noi rischiamo di mutuare qui dentro una polverizzazione che c'è da troppo tempo nel mondo politico si fanno aggregazioni comitati elettorali per le elezioni un secondo dopo dell'esito elettorale creano 50.000 partiti tutti diciamo tutto questo sistema che ha cercato di regolamentare la politica di stringerla alle coalizioni adesso andremo se verrà votata la non legge elettorale su un bipartitismo forse vediamo che cosa succede ha poi comportato la proliferazione di partiti partitelli e partitini faccio un'altra provocazione per provare a fare un pezzo di ragionamento in più tolto il finanziamento pubblico e i partiti mi pare leggendo qualche giornale che questi facciano un po' di fatica a raggranellare le risorse diciamo no sul mercato nel del volontariato di chi decide di finanziarli chissà che forse questo non faccia riscoprire a tanti partiti il metodo del sindacato cioè il fatto che io vado noi da dei lavoratori loro da dei cittadini a chiedere di aderire al partito e quindi portare un minimo di contribuzione cioè tornare di nuovo a un finanziamento sano che prevede anche per i partiti degli iscritti magari tanti che facciano una vita associativa e quindi dei partiti che ritornino ad avere delle strutture democraticamente lette tra gli iscritti così come facciamo noi che poi come dire nella piramide delle gerarchie territoriale periferico provinciale regionale e poi nazionale vadano a costruire uno satura anche di dibattito e di decisione che oggi mi sembra francamente più demandata alla battuta giornalistica che faccio rispetto a un pensiero collettivo un'elaborazione collettiva che c'è dentro i partiti stessi ecco queste brevi riflessioni per far capire io poi vorrei chiudere ovviamente ringraziando il pubblico di tanti giovani che ha partecipato a questa discussione e io non so se gli altri due segretari che peraltro oggi non ci sono mi danno mandato vorrei anche scusarmi col professore relatore principale e con gli altri professori che ci sono oggi per la scarsezza di presenza di dirigenza sindacale oggi sarebbe stata un'occasione per pensare un po' rispetto alle cose che ci ha detto il professore al dibattito che c'è stato prima per pensare un po' a come siamo fatti e alle difficoltà nelle quali ci muoviamo grazie al prossimo appuntamento a tutti quanti buona giornata buon proseguimento applausi 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 applausi